Dopo la palla canestro si arrende ufficialmente anche la palla a volo. La federazione FIPAV ha dichiarato conclusa la stagione dopo l'iniziale sospensione a causa dell'emergenza coronavirus. Non si tornerà in campo quindi. Chiusi tutti i campionati, sia quelli nazionali, sia quelli regionali, territoriali e giovanili, maschili e femminili. Niente assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni. Un vero peccato anche per il volley club Sciacca, che era impegnato in serie C maschile e in serie D femminile. Con la squadra maschile, la società di Enzo Graffeo e Nino Marchese era in testa alla classifica del Giro Nea, con 11 vittorie e una sconfitta, autore finora di un campionato di alto livello tecnico ed agonistico. Con le partite casalinghe giocate al Sicilia Sport per via della perdurante chiusura del pallone tenda. Con la squadra femminile invece, dopo un avvio complicato, si era in piena lotta per l'obiettivo salvezza, a portata di mano dopo le ultime partite vinte. I campionati dunque finiscono qui. Niente altre partite e niente playoff. Analoga decisione già assunta dal basket due settimane fa. Si ricomincerà la prossima stagione, in attesa di capire il futuro delle norme, specie quella relativa al distanziamento sociale. Il Valle Club Shack ripartirà come sempre dai giovani, da qualche veterano e, nel limite del possibile, dagli attuali gruppi di ragazzi e ragazze.